Gesù è la luce vera. Il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Carissimi amici, ecco l'annuncio di oggi. Non Cristo risorto, ma come dice il Vangelo secondo Giovanni al capitolo primo, che adesso leggeremo, Dio, il verbo, si è fatto carne. Bene, ecco allora, vi propongo il Vangelo del giorno. Sapete che ci sono diverse celebrazioni. Nel giorno di Natale, dalla vigilia alla notte all'aurora, vi leggo il Vangelo del giorno, che è Giovanni 1, 1, 5, 9, 14. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni li dà testimonianza e proclama, «Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Amen». Cari amici, questa notte abbiamo ascoltato, nella bellissima messa della Vigilia di Natale qui a Strona, il Vangelo secondo Luca, che parla della nascita di Gesù, di questo mistero straordinario. nella notte a Betlemme, con l'annuncio ai pastori da parte degli angeli, un'atmosfera magica, bellissima, dove il Dio Onnipotente si è reso presente nella carne umana in un modo straordinario, semplice, umile, attraverso un bambino, Gesù Cristo. Ecco che oggi il Vangelo che ci viene proposto, che è Giovanni, è un Vangelo che riflette questo evento. Un evento che, pensate, ha cambiato il corso della storia. è l'unico evento attraverso il quale noi abbiamo una datazione, se ci pensate, prima di Cristo e dopo Cristo. Perché? Perché Gesù è la luce vera, perché Gesù è quella luce che davvero ha illuminato e illumina ogni uomo e ha dato un prima e un dopo. Solitamente siamo abituati, almeno negli ultimi anni, attraverso i media, i social, la TV, internet, a dare delle definizioni temporali di un prima e di un dopo. Pensate all'11 settembre, pensate alla data del 2020 del Covid, prima o dopo il Covid, però dopo qualche anno ci si dimentica e la vita ritorna come prima, pur avendo avuto dei grandi disagi o delle grandi belle situazioni. Eppure l'evento cristocentrico della nascita di Gesù ha segnato la storia e nessuno, pur dicendo io non credo in Dio, io non credo in Gesù Cristo, a me non interessa, a me non importa, in realtà Gesù l'ha segnato anche per loro la storia. Adesso ci sarà il nuovo anno, il 2024. Sappiamo che la datazione originaria era di tre, quattro anni prima, per un errore di calcolo, ma è sempre riferita alla nascita di Cristo. Perché? Perché è la luce vera. perché l'uomo ha compreso che non può essere illuminato da nessun altro se non da Gesù. Poi ha delle situazioni, dei periodi di smarrimento, di negatività, di scoraggiamento, di allontanamento da Dio. Tutto ci può stare. ma alla fin fine lo dice il Vangelo, è Cristo la luce vera. Questa è la gioia di oggi, la gioia del Natale. Duemila anni fa è già venuta la luce nella nostra vita. Giovanni 1 dice a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare suoi figli, figli di Dio, in Gesù. Quindi l'invito è valido anche oggi. viene per te la luce vera. La cogli oppure no? O ti bastano le altre lucette, quelle artificiali, le luci lette che si caricano e poi si scaricano. Viene a mancare la corrente e non puoi più accendere nulla e sei al buio. Cristo è la luce vera. Cristo è come il sole. Una luce che continua ad uscire, ad essere emanata è vero. Ci sono le fasi del giorno e della notte ma quella luce in realtà non cessa mai. Cristo è questa luce, la luce nella tua vita, la luce gioiosa che entra anche oggi con i suoi racci di vita. Scalda la tua famiglia, scalda, riscalda la tua casa, riscalda il tuo cuore, riscalda i tuoi pensieri, la tua mentalità. Il Natale è un'esperienza. Non è l'annuncio romantico e tradizionale e tradizionalista. Cristo è nato nel mondo. Sì, e io e i miei problemi chi mi le risolve? Fratelli e sorelle, Gesù è quella luce gratuita che il Padre ci ha donato. Ricevila, accoglila, ti invito a fare questo gesto. Noi di solito nei nostri presepi a casa o dove le abbiamo messi, abbiamo questo Gesù bambino che sempre ha le braccia aperte ma ci indica la via. Prega così anche tu, apri le tue braccia verso questo Gesù bambino, questo verbo che si è fatto carne e dirgli grazie Gesù, grazie che sei venuto per me, grazie perché sei venuto ad illuminare la mia vita, grazie perché sei venuto ad illuminare le mie tenebre, grazie perché sei venuto ad illuminare molto più di tutte quelle luci che fino ad oggi io ho seguito e sto ancora seguendo e forse voglio seguire. Signore, fammi fare quell'esperienza di trovare solo in te la mia luce, la mia gioia, la mia pienezza e io ho fiducia e credo che tu puoi risolvere i miei problemi, solo tu, Signore, sei la soluzione vera, il tesoro vero, la gioia vera e non una gioia effimera, una gioia che passa. Mi fido di te, Gesù, ti accolgo e proclamo tu, Signore Gesù, sei la mia luce vera, ti voglio nella mia vita, nella mia casa e nella mia famiglia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, accogliamo questo bellissimo slogan di oggi da Giovanni I, Gesù è la luce vera. Questo è il segno, il segno straordinario di un Natale meraviglioso. Dio ti sorprende, lasciati amare da Lui. E un caro saluto e grandissime benedizioni da parte mia e dei fratelli e sorelle della comunità di Strona, dell'Oasi di Biella. Buon Natale a tutti voi. Ci vediamo domani. Ciao. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 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 Grazie.